Allora, tavola 7. Nella tavola 7 svolgeremo due esercizi. Costruiremo un pentagono data una circonferenza di raggio 6 e ugualmente un esagono sempre data la circonferenza di raggio 6. Quindi questa volta la tavola la divideremo in due parti, non più in quattro, per cui nella costruzione della squadratura ci limiteremo soltanto a fare la linea centrale che la divide in due parti verticalmente. Allora, iniziamo a fare il primo esercizio. Dato una circonferenza di raggio 6, costruire il pentagono iscritto. La prima cosa che faremo è quella di appunto costruire la circonferenza. Costruiamo questa circonferenza quindi con un raggio pari a 6 cm e costruiamo anche i due diametri perpendicolari tra di toro. Lo possiamo fare tranquillamente anche con le squadrette. A questo punto che cosa facciamo? Con un'apertura pari al raggio, ok? Adesso qui non ho messo la lettera, però puntiamo nel punto estremo del diametro con un'apertura pari al raggio, tracciamo questo arco che ci permette di determinare il punto 1 e il punto 2. Questa costruzione la facciamo semplicemente perché vogliamo trovare il punto medio di questo raggio. Infatti, unendo il punto 1 e il punto 2 troviamo il punto M, che sarebbe appunto il punto medio di questo raggio, ok? A questo punto, con un'apertura pari ad MA, dove A è il punto del diametro verticale sopra, con un'apertura pari a MA tracciamo un arco e troviamo il punto N. Con un'apertura pari ANA, ok? Tracciamo un arco e troviamo il punto E. Allora, quello che abbiamo trovato, AE, di fatto è il lato del nostro pentagono. Infatti, con la stessa apertura AE, centrando in A, possiamo trovare B. Centrando in B e in E, sempre con la stessa apertura, troviamo i punti D e i punti C, ok? Unendo tutti questi punti, A, B, C, D, E, abbiamo così trovato il pentagono iscritto nella circonferenza di raggio 6. Vediamo adesso l'esercizio a destra, che è ancora più semplice. Anche qui costruiamo, come abbiamo fatto prima, questa circonferenza di raggio 6 cm. Costruiamo anche i due diametri perpendicolari tra loro, in modo che apriamo il punto O, che è il centro della nostra circonferenza, il punto A e il punto D, che sono estremi. A questo punto, con un'apertura pari a DO o DOD, facendo centro in D, troveremo, costruiremo questo arco e troveremo i punti C e il punto E. Stessa operazione la facciamo all'altra parte, apertura pari a DOD, o DOA, che è esattamente la stessa cosa. Centrando in A, costruendo questo arco, troveremo il punto F e il punto B. Unendo tutti e due, unendo tutti i punti, tra di loro abbiamo trovato il pentagono e l'esercizio uno iscritto alla circonferenza di raggio 6. Quindi queste sono le due costruzioni che dobbiamo fare per la tavola 7.